E la criminalità nella sesta provincia pugliese fa paura ogni giorno di più. Dopo gli allarmi nei giorni scorsi interviene anche il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao che ha intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, si dice preoccupato della presenza dei cosiddetti gruppi mafiosi autonomi pronti ad estendere la propria rete nel tessuto della società civile. Giussi Utano. È una mafia autonoma, è una mafia però frammentata, costituita da tanti clan. La criminalità organizzata è stata protagonista in questi ultimi tempi di numerosi attentati sul territorio della BAT tanto che il procuratore capo di Trani Renato Nitti nelle scorse settimane aveva lanciato un appello sulla forte e spesso sottostimate esposizione della provincia alle mafie. È importante richiamare l'attenzione su questa provincia e mentre si presentano oggi ancora ad un livello piuttosto rozzo e artigianale domani saranno le mafie che si muovono con gli stessi meccanismi dell'andrangheta e della mafia e questo bisogna impedire. C'è bisogno dello Stato che attraverso l'aumento delle forze di polizia dia un segnale alle mafie locali che in questi anni si sono sempre più organizzate. Una maggiore presenza sul territorio e questo probabilmente ciò che necessita nella provincia. Quei controlli, quella presenza di polizia, carabinieri, guarda di finanza che effettuano i controlli su strada innanzitutto. Una mafia autonoma, quella della sesta provincia, sancita anche dalle numerose condanne in questi anni per 416 bis. È necessario intervenire proprio per bloccare la operatività violenta, feroce che ancora questi clan mantengono. Grazie. Grazie a tutti.